L'obiettivo principale è quello di conoscerlo numericamente per mettere insieme qualche dato che ci servisse per avere un confronto, una baseline di quello che lui solitamente è dal punto di vista posturale e anche dal punto di vista condizionale. Una volta finito l'esercizio, ritorno in posizione e non muoverti fino a che non senti il secondo segnale acustico. Le apparecchiature utilizzate sono questi sensori inerziali che Sensorize ci ha fornito e che sono sicuramente uno strumento davvero friendly use per fare una valutazione sul campo. Quindi questo è l'utilizzo per valutare i balzi, invece delle pedane baro e stabilometriche necessarie per valutare gli appoggi a terra, la distribuzione dei carichi, distribuzioni latero-laterali e latero-posteriore. Non ho mai fatto nessun test del genere e quindi sono andato qua molto interessato a questo test e soprattutto per cercare di trovare qualcosa per migliorarmi nell'equilibrio, nella mia postura e nello specifico in quello che faccio. Quindi adesso da qua abbiamo una base su cui lavorare. Grazie a tutti.